pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao e benvenuto su pct facile il primo podcast pensato per gli avvocati tecnologici io sono francesco posati autore curatore e ti do il benvenuto alla puntata numero 14 dedicata all'interruzione del processo civile telematica in calabria e sicilia del giorno 11 aprile 2016 oggi in via di ripristino come è andata la settimana ti è piaciuta la precedente puntata siamo giuristi informatici sei ancora convinto che osservo una laurea in informatica per il processo telematico spero di averti convinto che non è così a riguardo aspetto un commento con interesse a fine puntata ringrazio tutti gli amici che in questi giorni mi hanno condiviso i loro feedback per migliorare il podcast un ringraziamento anche a chi ha dedicato il tempo per ascoltarmi grazie a voi il podcast su itunes è salito all'ottavo posto delle novità degne di nota nella sezione affari anche su spreaker il podcast ha iniziato ad avere il suo seguito puoi diventare produttore esecutivo della prossima puntata collegandoti al link paypal.me slash fposati e lasciare un'offerta libera iniziamo solo il 14 aprile del 2016 a tre giorni dal fatto sul portale dei servizi telematici il ministero della giustizia ha ufficializzato che un guasto tecnico a un serve di produzione ha disattivato i sistemi civili degli uffici giudiziari dei distretti di catanzaro reggio calabria messina palermo e caltanissetta nessun accesso nessun deposito nessuna informazione disponibile agli utenti il blocco improvviso ha catapultato la sicilia e la calabria nell'area cartacea come la delorean ha riportato il giovane marty mcfly negli anni 50 questa interruzione non ha toccato solo gli avvocati calabrese siciliani con la dematerializzazione dei rapporti ha toccato tutti gli avvocati italiani che hanno caso in quei distretti dal 30 giugno del 2014 si erano già verificati blocchi di sistemi per manutenzione integrazioni questi erano tuttavia stati programmati e comunicati per tempo agli utenti abilitati esterni per l'evento dell'11 aprile del 2016 è stata assenta alcuna comunicazione preventiva sono mancati avvisi sul sito del ministero della giustizia e sul portale dei servizi telematici l'avviso è stato pubblicato solo tre giorni dopo dall'accaduto a tutt'oggi non risultano implementate le soluzioni tecniche discusse al tavolo permanente del 23 febbraio del 2016 oggetto della puntata numero 7 sulla certificazione dei blocchi di sistema che garantivano una uniformità di decisioni e certezza dei rapporti invece il tutto è stato demandato ai singoli presidenti tribunali che nella loro autorità hanno deciso in modo separato e disorganico dal presidente di barcellona pozzo di gotto che ha concesso la remissione in termini plenaria ai presidenti tribunali di castrovillari e messina che hanno autorizzato il deposito cartaceo fino al ripristino dei servizi con conseguenze che possiamo immaginare per un'attenta ricostruzione invito a leggere il post pubblicato dall'associazione mobilizzazione generale avvocati a firma di maria dell'imperio con la collaborazione di pier luigi zulli marcucci già condivisa sul canale telegram pct facile e disponibile nelle risorse del podcast ti consiglio di leggere il post che approfondisce alcuni aspetti sulle conseguenze pratiche giuridiche del blocco le successive rimissioni in termini il ruolo del ci sia sul territorio chiamato a curare l'assistenza sistemica dei locali uffici territoriali il post offre soluzioni interessanti e pratiche investimento in un server mirror a specchio che copia i dati in transito verso altro server in grado di sostituire il server copiato in caso di down creazione di centri di disaster recovery alla luce del risparmio stimato di 54 milioni che ha portato il pct da febbraio 2015 a gennaio 2016 dati ufficiali del ministero giustizia il bello che quando parliamo di processo telematico si parlano sempre di stime mai di dati certi alla faccia della certezza del diritto il blackout del server interdistrittuale di messina per la sua importanza storica ripropone uno dei grandi punti critici del processo civile telematico tralasciato che in questo podcast voglio iniziare ad affrontare la conservazione dei dati nei fascicoli informatici la disciplina sul processo civile telematico è stratificata fin dal 2001 da dpr decreti legge decreti circolari ministeriali decreti presidenziali provvedimenti giurisdizionali ad hoc ma che fanno giurisprudenza fino a toccare agli avvisi di cancelleria affissi fuori dalla porta di quel magistrato o sezione di tribunale a tutt'oggi essa è confusa e laconosa viziata aborigine dall'idea di poter digitalizzare il codice di procedura civile pensato per atti e documenti su carta da qui la mia definizione non di processo telematico ma di processo cartamatico stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici da questo presupposto il pct oggi risulta rigide poco usabile da chi non ha praticità con gli strumenti informatici strutturato su un sistema informatico e non su un sistema documentale infatti il documento che è associato all'evento e non l'evento al documento il pct è basato sulla pec strumento poco flessibile che ha in sé connaturate criticità spazi di conservazione limiti di invio validità della firma del gestore il pct non è in grado di garantire la verifica dell'autenticità dei documenti presenti nel fascicolo informatico con l'impiego del sigillo elettronico di provenienza la sola coccardina presenta nelle copie informatiche privi di firma digitale non è idonea al riguardo e soprattutto il pct non è garantito da un sistema di conservazione a norma degli atti processuali digitali presenti nei fascicoli informatici punti questi che sono stati già evidenziati dal plenum del csm il quale evidenzato nella delibera del 13 maggio del 2015 che l'esigenza della conservazione digitale è fondamentale nel processo civile telematico come ci ricorda l'avvocato andrea lisi presidente dell'associazione nazionale degli operatori e responsabile della conservazione digitale anork.it in base a quanto stabilito dalla normativa primaria del cad e dalle sue regole tecniche è evidente che i documenti non consolidati e i fascicoli non opportunamente conservati non sono validi e rappresentano una evidente inosservanza anche di norme europee e di standard internazionali ignorare queste disposizioni espone dunque a un rischio di nullità gli atti ai documenti e i fascicoli processuali informatici a quali si potrebbe eccepire contestare il loro valore probatorio e a rischio la certezza del diritto il processo civile telematico è del tutto creante di specifiche disposizioni sulla modalità di conservazione a norma dei documenti informatici depositati in via telematica come previsto dagli articoli 43 successivi del cad e dalle regole tecniche del documento informatico il pct offre un generico rinvio all'articolo 41 del cad infatti l'articolo 9 del regolamento del pct e l'articolo 11 delle specifiche tecniche del dg sia si limitano ad affermare che la tenuta e la conservazione del fascicolo informatico equivalgono alla tenuta e la conservazione del fascicolo d'ufficio sul supporto cartaceo tuttavia è assente oggi un responsabile della conservazione come previsto dall'articolo 44 del cad l'adozione di un processo di conservazione digitale poteva essere anche occasione di riqualificare le figure del personale amministrativo oggi presenti negli uffici oggi per come è strutturato il processo civile telematico e l'accettazione del deposito telematico la figura del personale amministrativo è equiparabile a quella dei medi automi che potrebbe essere sostituita da sistemi automatizzati sarebbe sufficiente la terza pec e non sarebbe necessaria la quarta pec invece con un sistema integrato di conservazione si dava un ruolo e una funzione infondamentale del personale amministrativo quale responsabile della conservazione digitale di quei fascicoli dando a quei fascicoli informatici oggi presenti sul polisweb una funzione di garanzia assoluta ribadiamolo i meri richiami del pct al cad non sono sufficienti a tutelarci dai gravi rischi e conseguenze legate al consolidamento del documento informatico delle firme elettroniche dell'obsolescenza digitale cui sono soggetti gli avvocati tecnologici di fronte all'evoluzione digitale anche la scelta del legislatore oggi in sede di revisione del cad per la prossima entrata in vigore del regolamento eda se il primo luglio del 2016 gli riconosce una derga al pct rispetto alle norme generali sulla conservazione digitale dei documenti informatici non è la panacea di tutti i mali il documento digitale non è il documento cartaceo e deve essere respinta alla soluzione che tende ad appiattire il primo con il secondo le società moderne tendono verso la dematerializzazione dei supporti non alla digitalizzazione degli stessi quindi anche la scelta da parte del ministero della giustizia con le nuove specifiche tecniche del 9 gennaio del 2016 di derogare alle regole tecniche del documento informatico non garantisce gli utenti finali all'uso dei file informatici anzi sotto certi aspetti la normativa del processo civile telematico si pone in aperto contrasto con la normativa primaria del cad e le norme europee in cui il regolamento ed es di prossima applicazione detterà le norme a tutti i paesi dell'unione europea di fronte alle omissioni del ministero l'obbligo della conservazione documentale grava ulteriormente sugli avvocati soprattutto di fronte ai recenti fatti dell'11 aprile del 2016 l'unica strada per l'avvocato tecnologico è quella di incominciare a prendere cognizione dell'importanza della conservazione digitale che deve affrontare con criterio una gestione integrata documentale e ripensare ai suoi processi di gestione in conclusione sempre andare gli isi ci ricorda che ripensare lo studio digitale in un'ottica di conservazione documentale conviene perché stai ascoltando pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici quando si fa digitalizzazione documentale poi si investe in efficienza si investe in un'organizzazione naturalmente più efficace proprio nei rapporti nei confronti del cittadino di quelli che sono i destinatari di questo tipo di servizi e soprattutto si investe anche in politiche che sono ambientali perché la carta quella inutile danneggia l'ambiente e quindi tante volte noi costruiamo stampiamo documenti continuiamo a costruire documenti in online magari li costruiamo attraverso il pc perché ormai nessuno sigla i propri documenti scrivendoli a penna tutti li costruiamo magari sul pc però ci ostiniamo a stamparli molto spesso è inutile stampare invece bisogna costruire dei binari fatti di bit che siano dei veri mattoni per costruire poi quelle fondamenta soli di cui l'italia ha bisogno quindi un passo avanti per l'ambiente un passo avanti per l'accessibilità dei cittadini è un passo avanti soprattutto anche dal punto di vista economico perché non è vero che in realtà costa digitalizzare anzi è un risparmio assolutamente è chiaro che qualsiasi cosa se fatta bene ha bisogno di sacrifici ripeto sacrifici anche in professionalità vanno ricostruite delle professionalità oggi e su questo dobbiamo sicuramente investire però dall'altra parte è chiaro che una politica seria di digitalizzazione documentale sia un costo iniziale ma sicuramente un costo che comunque comporta un risparmio rispetto all'utilizzo eccessivo della carta che si sta facendo oggi questo risparmio però consentirà dopo trasparenza efficienza e risparmi sicuramente più solidi più efficaci nel futuro termino qui questa puntata ringrazio mario scotto per il commento al canale telegram su t channel spot e piccola lupa per la sua recensione su iTunes se non lo hai fatto lascia anche tu un commento o un voto al podcast affinché altri utenti possano conoscere pct facile il primo podcast pensato per avvocati tecnologici alla prossima settimana e ti ricordo che viviamo il futuro digitale ciao segui pct facile su avvocato tecnologico punto it su tumblr e su telegram contatta l'autore francesco posati per idee suggerimenti richieste su about.me slash f posati o scrivi a me chiocciola francesco posati punto it sostieni il podcast tramite paypal.me slash f posati